I tempi. Una volta che noi presentiamo i progetti siamo in attesa della regione siciliana per l'approvazione di questi progetti, speriamo per i relativi decreti di finanziamento e quindi saremo pronti a fare tutti gli atti poi necessari ai bandi per le gare pubbliche saranno da espletare. Però ripeto, sono occasioni, opportunità che abbiamo sfruttato, con le quali abbiamo partecipato e con le quali intendiamo veramente cambiare il volto della città. Accanto ad altre opere che in questi due anni di mia amministrazione siamo riusciti ad aprire e che rappresentano un segnale, seppur faticoso, però di rinascita del centro cittadino. Mi riferisco per esempio al completamento di piazza stazione. Oggi finalmente è diventata una piazza in cui si fanno gli eventi, una piazza in cui si gode insieme nella partecipazione di feste, di concerti. E' diventato un momento di condivisione di tutta la città. Accanto a questa l'apertura della biblioteca comunale e dell'archivio storico comunale, la biblioteca oggi è diventata, oltre che è un momento in cui andare a consultare i libri e fare le ricerche, anche un momento in cui si ci confronta all'interno, si fanno dei dibattiti, degli incontri, delle riflessioni sui libri che vengono presentati. Un momento importante di rinascita della città. Accanto alla biblioteca comunale, la riapertura dei sottopassaggi che hanno rappresentato sempre per la città un fattore simbolico, oltre che sicuramente di importanza dal punto di vista della sicurezza per i pedoni che intendono attraversare questo grande quadrilatero che va da un lato alla Banca d'Italia, al lato del Viala, alla piazza Stazione, a piazza Vittorio Emanuele. Accanto a queste opere, ormai siamo in prossimità di fare partire i lavori del parcheggio di piazza Rosselli, un parcheggio pluripiano importante che darà grande ossigeno complessivamente a tutto il traffico cittadino, potendo disporre di una capacità di posti notevole. Accanto a questo il completamento di un parcheggio che è proprio sotto la piazza Stazione, diciamo lato via Crone, e anche questo rappresenta un'importante occasione e opportunità che diamo a tutta la città di poter parcheggiare lì e poi salire e recarsi al centro città o recarsi in altri posti e quindi anche questo rappresenta un importante segnale di riqualificazione, di utilizzazione al meglio degli spazi cittadini. Il mio grande rammarico e la mia grande rabbia è quella che i fondi che vi erano per la legge che riguardava il centro storico di Ortigia, il centro storico appunto di Siracusa e di Agrigento, di quei soldi Agrigento non ne ha potuto utilizzare neanche un centesimo perché non aveva il piano particolareggiato, perché vi era anche una certa distrazione da parte della classe politica. Oggi Ortigia le ha potuti utilizzare, oggi Ortigia è diventata veramente un gioiellino, il nostro centro storico ancora invece subisce il ritardo di 30 anni di disattenzione e di abbandono. Però nella consapevolezza che rappresenta infatti, oltre che un momento di riqualificazione importante, in linea con i tempi che stiamo vivendo, dove appunto si è riscoperto ormai da alcuni anni a questa parte il gusto per riqualificare e recuperare il centro storico, per recuperare le origini e per recuperare soprattutto l'identità di un popolo, di una città e una storia. E in questo senso lo ritengo sia importante, per esempio, anche lì accanto a questi interventi che stiamo facendo, la previsione del recupero di importanti palazzi nobiliari antichi per farli diventare momenti di partecipazione universitaria. accanto a questo, anche se comprendo che, come dire, poi vi è una grande fatica nel riuscire a portare a termine tutti gli obiettivi e tutti i propositi, però, ripeto, tutte le occasioni che ci si sono presentate le stiamo sfruttando appieno, anche quello per esempio di andare a realizzare residenza universitaria, proprio per fare diventare un centro storico, non soltanto un centro storico che rivive, ma che, diciamo, rivive nostalgicamente il passato, ma un centro storico che invece riattualizza la sua centralità in un contesto che è cambiato, ma che vive quindi del residenza universitaria e quindi vive di giovani, vive di una presenza nel suo territorio che ha un forte senso, soprattutto di investimento e di futuro, proprio per la presenza di giovani.